L'ultimo viaggio, clip e esclusiva dell'emozionante film di Nick Baker Montez perché siamo, chi siamo? Quanto conosciamo veramente dei nostri padri, dei nostri nonni, delle loro sofferenze, delle loro battaglie, dei loro amori? Queste sono le domande che hanno spinto il regista Nick Baker Montez alla realizzazione dell'ultimo viaggio, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva Il film che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 29 marzo, è un intenso ed emozionante road movie in cui passato e presente si intrecciano con la memoria e la ricerca della propria identità Protagonisti di questa emozionante storia sono Edward e sua figlia Auli e sua nipote Adele La morte della moglie di Edward sarà l'elemento scatenante che metterà in moto questo viaggio e porterà a mettere in ordine il puzzle del passato dell'anziano protagonista e a far capire alla nipote Adele quanto sia importante conoscere e accettare le proprie radici Nella clip in esclusiva che vi mostriamo dell'ultimo viaggio, Adele e suo nonno sono su un treno diretto a Chieve e la ragazza incontra un passeggero che sembra sapere molte cose di lei Vi lasciamo alla sinossi e alla clip esclusiva di, l'ultimo viaggio, ricordandovi che il film arriverà nelle sale dal 29 marzo Nel cast, Jürgen Prokno, Edward, Petra S. Cimid, Schole, Adele e Susan Fon Borsodi, Uli L'ultimo viaggio, clip esclusiva, sinossi Edward ha la barba bianca, il passo incerto e la schiena un po' ricurva Ha 92 anni e un passato ieno di ricordi e emozioni perfettamente leggibili sul suo volto, ma l'atteggiamento distaccato e scorbutico tiene lontani tutti La morte della moglie, farà riemergere un passato di cui né sua figlia Uli né la nipote Adele erano a conoscenza e darà l'occasione a Edward di ricomporre i pezzi del suo passato che per tanto tempo lo hanno tormentato Con un cappello e un vecchio baule, Edward lascerà un biglietto alla figlia e prenderà così un treno diretto a Kiev in Ucraina, a nulla varrano I tentativi di Adele di fargli cambiare idea che suo malgrado si ritroverà a percorrere un lungo viaggio nei ricordi del nonno e nella storia Sullo sfondo della guerra civile ucraina del 2014, Adele e Edward compiranno questo emozionante viaggio che porterà la prima a capire l'importanza del conoscere e accettare le proprie radici E il secondo a fare pace con il passato Guarda la foto